Degrado urbano, microcriminalità e spaccio di stupefacenti, weekend di controlli interforze mirati nelle zone di Campo Marzio, del Quadrilatero e dei Giardini Salvi, sono stati identificati 34 soggetti, di cui 12 con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Successivamente il dispositivo di polizia si è concentrato su Parco Fornaci, Via Rattazzi e la zona del Mercato Nuovo. All'interno del Giardino Pubblico è stato identificato un ventenne gambiano, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è scattato l'iter per la revoca del permesso di soggiorno e la successiva espulsione dal territorio nazionale. Ispezionati anche numerosi locali pubblici, all'interno di uno dei quali è stato individuato un cittadino moldavo con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, a cui è stata notificata la misura di prevenzione personale dell'avviso orale del questore, in quanto ritenuta persona pericolosa. Pattuglia piedate in centro per un weekend ad alta affluenza turistica. 181 le persone identificate. Bilancio dell'attività che ha portato il questore, Paolo Sartori, ad emettere 12 fogli di via, 11 avvisi orali e 6 ordini di allontanamento dal nostro Paese.